Dritto! Dritto è poi qui a destra Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ah però Non è sempre più difficile da dare Grazie a tutti Non è sempre più difficile Non ti riesco a arrivare No no E dai che arrivi giù Non è sempre così Forse per non partire da lì Lui l'ha abbassata L'ha abbassata adesso Si si No Finisce qui Non c'est pas ça, non c'est pas ça